ciao ragazzi dal vostro catalto pugliese oggi video di clash royale hanno rilasciato una nuova carta vediamola un pochettino molto interessante è abbastanza efficace con il contatto molto interessante ebbene andiamo ragazzi vediamo un pochettino se hanno ecco lo nuovo evento c'è questo evento da fare per provare ad arrivare ma vincere proprio questa nuova carta che è stata rilasciata vediamo un pochettino vi faccio vedere un po io ho preso quasi ho trovato quasi tutte le carte ragazzi ormai veramente ce ne mancano poche per la precisione manca soltanto il massimo lavico e questa nuova carte che hanno appena rilasciato ma ragazzi inserisco anche una battaglia nel video dai così da come dire rendere più appetibile il nostro video di oggi odierno battaglia in arena 11 l'elettrica via ok partiamo con domatore di cinghiali ma perché non avevo nient'altro da mettere come carte iniziali ma partenza diciamo un po col freno a mano tirato per quelli che sono i nostri standard vabbè comunque tra di fatto che qualche danno io l'abbiamo fatto allora non ancora niente a questo è uno di quelli degli edifici insomma sì sì ho capito ho capito tutto ho capito tutto diamo con la nostra combo si è abbastanza ben riuscita diciamo ok mettiamo lo stregone di fuoco così questi in zettucoli lì e che non c'è sto punto limitiamo poi mettiamo di nuovo lo stregone elettrico ecco la si è cercata la giocata ma il problema sta nel fatto che non abbiamo amore di difendersi per come per come è allora ci ha fermato tutto no lo mettiamo molto mettiamo gli scheroteri mettiamo gli scheroteri che mettiamo vai mongolfiera vai mongolfiera vai a fare almeno una botta al attore centrale niente però la bomba c'è va bene duello molto interessante questo equilibrato il giusto duello per voi ragazzi per divertirvi i duelli facili a me non ci piacciono ci piace duellare con le dovute difficoltà non perdere vai stregone dove l'ho messa sta fongolfiera vabbè era scontato lo devo incalzare lo devo incalzare non gli devo dare tregua 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 male 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 vediamo dai scrittiri sì io ci rimetterò sempre nel mio deck dobbiamo fare questa lo devo congelato ho fatto una questione interessante ora ora o mai più mongolfiera cinchiale via dai 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 sta per finire supplementare dai sì perfetto vittoria vittoria ragazzi nel ricordarvi di iscrivervi al mio canale cataldo pugliese il nome del canale vi saluto e arrivederci nei prossimi video di clash royale vittoria 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 Grazie a tutti